Bene, noi abbiamo questa espressione in questo Vangelo piuttosto paradossale, una parabola sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi mai. E che avverbio, mai, mai stancarsi, come si fa? Come si fa a pregare senza provare noia o stanchezza, senza avere la voglia di tirare un po' il fiato? Come sarebbe a dire, come succede questa cosa qui? Ma qui Gesù non parla di qualità morale, parla di necessità. Necessità, avere una necessità. E ci mette di fronte alla parabola di questa vedova. Una vedova, cioè una persona che non ha nessuno che possa occuparsi di lei, la vedova nella situazione sociale dell'Israele, del tempo di Gesù, è una persona proprio ai margini totali, completi della scala sociale, cioè era la persona che non avendo proprio più un uomo che potesse avere dei beni, posto che l'eredità dei beni era solamente maschile, in questa paradostale situazione una vedova diventava una persona completamente alla merce proprio delle situazioni, molto spesso diventavano mendicanti. Comunque fondamentalmente la vedova è quella che non ha lo sposo che la difende, non ha l'appoggio, perché si gioca in ebraico sull'ambiguità della parola marito e appoggio, perché vengono espressi con lo stesso termine. E allora ecco lei che non ha nessuno che la sostenga. Bene, allora va da un giudice che è un giudice di cattivissimo animo, una persona che non vuole fare le cose fatte bene, che sarà costretto a farle bene, perché la realtà molto spesso sembra un po' questo giudice qui, questo giudice svogliato, pigro, cattivo, disonesto, sembra che la realtà che ci circonda sia portatrice di quella dose di caos, quella dose di malizia, di cose malfatte, tante volte uno si trova di fronte ai problemi, le cose sono difficili, sono difficili. E quando è che uno si ferma? Quando è che uno si ferma? Perché questa vedova non si ferma, continua ad importunare questo uomo. Perché? Perché per lei è necessario. È tutto qua il punto. Tanto semplice, ma questo è il punto della parabola. È necessario. Questa vedova, se non riesce a ottenere da questo giudice ciò che cerca, non vive, muore, è disperata. Ecco, chi è che grida giorno e notte? Chi ha capito che è necessario avere un rapporto con Dio? Ahimè, credo proprio che è molto facile, che sia normale che molti degli ascoltatori non sentano tutta questa urgenza, tante volte noi stessi consacrati, sacerdoti, donne consegnate al Signore, e tutto quanto, sì, ma proprio necessario, la parola necessaria è una parola forte, necessario vuol dire non vivo senza, cioè appartiene alle mie urgenze vitali. È vero questo? È vero che è necessario avere un rapporto con Dio? Beh, appare un po' più chiaro se guardiamo un altro aspetto. Innanzitutto è interessante vedere che la prima lettura della Domenica in questione ci pone di fronte a Mosè che deve pregare mentre il popolo combatte e dal monte deve tenere le mani alzate e quando le mani le butta giù perché è stanco, il popolo perde. Quando le tiene su, tanto è proprio che al momento gliele tengono altri due, e il popolo vince. Perché Mosè ritira su le mani o si fa aiutare? Perché vede la sconfitta, perché vede la battaglia. Perché noi invece le lasciamo cascare? Perché non vediamo la sconfitta. Qual è la forza di questa donna? Che ha un avversario. Lei ha un avversario, ha capito la sua battaglia, ha capito la rilevanza della sua vita, ha capito che se le cose le lascia così andare, se non le porta fino in fondo, se il giudice non gli farà giustizia, l'avversario se la mangia. è come uno che smetta di correre perché si è dimenticato che c'è una tigre dietro che lo insegue. No, ma questo è un gatto così. No, no, quella è una tigre, caro, perché si allontana un po' la vista un po' più piccola. Ecco, noi tante volte scambiamo la tigre per un gatto, noi conviviamo con delle cose che sono pericolosissime per noi. Il problema più grande non è in un certo senso non avere un impulso pregatorio così solerte per cui io non tralascio un'antifona, non tralascerò un responsorio e sarò sempre pronto a fare tutto ciò che è il dovere di un orante autentico. No, il problema è che c'è una tigre che mi insegue, il problema è che io ho un avversario, c'è il satan, in ebraico avversario si dice con la parola che è tristemente nota come satana, c'è il satan, c'è il pericolo. Esempio, se una coppia smette di mettere al centro della propria vita ciò che vale veramente, ciò che fonda il loro matrimonio, iniziano a perdere la bellezza del loro matrimonio. Se noi siamo abituati a vivere nel grigiume non ci rendiamo conto di quanto è brutto ciò che stiamo vivendo, se noi siamo abituati a cibi scadenti continuiamo a mangiarne, ma non abbiamo la percezione di quanto ci stiamo facendo normale e di come stiamo vivendo male. È il giorno in cui io ricordo il buon cibo del bene, quando ricordo il sapore frairante delle cose vere, autentiche, che mi rendo conto di vivere in terra straniera, che mi rendo conto di vivere con un nemico, di aver dato credito a qualcosa che dovrebbe sparire dalla mia esistenza. Noi, ahimè, perdiamo il senso delle nostre vere necessità. Quando noi stiamo angosciati da qualche cosa che ci minaccia seriamente, allora normalmente preghiamo e anche facciamo pregare. E mille volte ho detto quanto segue. Lo strano non è che noi preghiamo quando siamo in condizioni di necessità. C'è qualcuno che moralizza su queste cose e dice, ah, ma perché prego solamente quando ho necessità? Ma è normale che tu preghi quando c'è necessità. E il problema è che pensi qualche volta di non avere necessità. Il problema è che pensi di sussistere da solo, sussistere così, in piedi, per tua sola forza. E' questo il grave inganno della nostra cultura. Sono secoli che stiamo sotto la mitragliatrice della menzogna che parlano all'uomo della sua sufficienza, della sua autosufficienza. Che falsità! Certo che diventa, diciamo, sufficiente la mia intelligenza, i miei sentimenti, la mia dotazione di bordo elementare, se il mio bersaglio diventa piccolo, se quello che devo fare è tirare a campare e riempirmi un po' i serbatoi delle mie soddisfazioni, ma certo, ma se io sono chiamato all'immagine di Dio che ho stampato da dentro, alla grandezza, alla bellezza, all'amore, a lasciare un tratto nella vita che sia un tratto di creatività, di novità, di bellezza, di profondità, alla fine che cosa conterrà della nostra vita? Se abbiamo amato veramente qualcuno, se qualcuno gli abbiamo dato veramente quello che dovevamo dargli e anche di più, se siamo andati oltre la giustizia, se siamo entrati nel campo dell'amore, se questa è la mia chiave di lettura di me stesso, allora c'è una necessità enorme di pregare. Se somigliare a Gesù Cristo non è una questione di optional, un di più, che tutto sommato vado benone così come sto, se invece mi rendo conto che se non entro nel sublime, sono un fallito, se non entro nella bellezza, sono uno che sta sprecando la grandezza della propria vita, allora prego, ho bisogno ogni mattina di pregare seriamente, mettermi davanti a Dio, perché la grandezza io non la raggiungerò mai da solo, ho bisogno ogni sera di riconsegnargli la mia vita, ho bisogno in ogni istante di dialogare con Lui, non mi stancherò, perché troppo bello è ciò che gli chiedo. di riconsegnargli Grazie a tutti